Tra le realtà più colpite dall'emergenza sanitaria da Covid-19 a causa delle restrizioni e delle chiusure imposte, ci sono le palestre. Per questo l'amministrazione comunale ha pensato ad un contributo per il sostegno e il rilancio dell'attività del settore. Bonus palestre, questo è il nome della misura, è rivolto a soggetti privati, titolari o gestori di palestre, corsi fitness, personal trainer e scuole di danza, con sede operativa a Pesaro. Coloro che faranno domanda potranno ricevere fino ad un massimo di 3.000 euro con due tipologie di contributo previste. La prima a fondo perduto e fino ad un massimo di 1.500 euro per singolo richiedente sarà calcolata sulla base del numero di domande pervenute e sulla superficie della palestra, motivo per il quale nel modulo da inviare sarà richiesto di indicare se la struttura è di dimensioni inferiori o superiori ai 200 metri quadrati. Il secondo intervento, invece, a rendi contazione e anche in questo caso quantificato in un massimo di 1.500 euro per richiedente, in base alle domande pervenute e alle spese effettuate, andrà a sostenere i titolari delle palestre per l'acquisto già effettuato o in previsione degli strumenti necessari alla messa in sicurezza dei locali, come per esempio apparecchi per la sanificazione o dispositivi di protezione individuale. In questo caso il richiedente si impegna entro cinque mesi dalla data di comunicazione e di conferimento del contributo a trasmettere all'amministrazione attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo comune.pesero.emarche.it tutta la documentazione atta a dimostrare l'importo delle spese sostenute. Le palestre sono coloro che hanno sofferto di più, sono tra le attività che hanno sofferto di più e anche questi sono lavoratori. A volte ce lo scordiamo, sembra che andiamo in palestra così per tempo libero, per noi tempo libero ma perché si lavora e lavoro, ci sono delle famiglie dietro, sono quelle che hanno avuto anche meno ristori e quindi abbiamo deciso con Mila di fare un'azione specifica sulle palestre ma anche scuole di danza, corsi di yoga, tutte quelle attività personal, tutte quelle attività che sono state chiuse per tanti mesi e che spero da maggio possano riaprire anche indoor e non solo all'esterno. Il 21 di aprile sarà l'apertura delle domande, i contributi saranno due, uno fino a 1500 euro a fondo perduto e quell'altro sempre di 1500 euro per tutte quelle che sono le spese sanitarie, dpi, tutto quello che serve per adeguare la palestra o il centro personal in sicurezza. Si potranno rendi contare anche le spese già sostenute perché ricordo insomma che già a settembre molte realtà si sono dovute adeguare e quindi è giusto riconoscere anche quelle spese che erano già state sostenute da tutte le attività. Bando e modulistica saranno caricati da mercoledì 21 aprile nell'albo pretorio del sito del comune di Pesaro e le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 28 aprile inviando una mail a comune.pesaro.it. A sostegno delle palestre e non solo, l'amministrazione sta inoltre pensando di riproporre diverse aree e spazi della città come avvenne l'anno scorso con la struttura al Parco Miralfiore per poter svolgere l'attività sportiva all'aperto rispettando il distanziamento e tutte le norme di sicurezza anticontagio. Ci saranno diversi spazi verdi, diverse aree che potranno essere utilizzate dalle palestre per fare attività all'aperto. Sicuramente la stagione estiva favorisce questo tipo di attività e noi vogliamo aiutare, incentivare, stimolare insomma a stare il più possibile all'aperto oltre che ad aiutare queste realtà economiche fortemente colpite dal coronavirus.